Ciao a tutti gente! In questo video vi mostrerò dove prendere l'Apras Prima di tutto andate nella grotta di mezzo Allora io prenderò, diciamo, la strada più lunga Dovete passare per di qua, giù, qui E poi andiamo giù ancora E questo fantallenatore sarà un punto di riferimento Perché voi dovete scendere giù di qua Conserve E comunque questo Pokémon è ottenibile solo di venerdì Mettiamo quel fantallenatore lì Dopo con surf attraversiamo qua e scendiamo giù ancora Adesso attraversiamo ancora con surf Qua la mossa sarà molto essenziale la MN surf Bene, dopo aver battuto tutti i fantallenatori Vedo questa Arriveremo qua giù Troveremo l'Apras Solo il venerdì Dopo aver battuto Angelo Solo il venerdì Perciò, tipo, in questo caso io ho 16 medaglie E va più che bene Adesso, 12 Parliamo e lottiamo Allora Maschio L'Apras è un buon Pokémon Ha anche tanto PS Allora, cominciamo con Tuono Onda Forse non è riuscito È paralizzato E non è riuscito Adesso provo con una Ultra Ball Allora, cominciamo con il Genoscheggia Mossa interessante Adesso Adesso prendiamo un Pokémon totalmente inutile come Raticate Che ho insegnato solo mosse MN Perciò, cominciamo con Forza E l'Unicisora E l'Unicisora Geloscheggia Potrebbe farci male E ci fa male Ma che non può ci prendere Molto bene Vita gialla Di nuovo Geloscheggia Di nuovo Geloscheggia Uno Due Tre Preso L'Apras è stato catturato Eccolo qua L'Apras È l'unico ottenibile in questo gioco È nel box 2 Bene E qua adesso rimarrà una landa desolata, vuota Bene Vi ripeto che si può trovare solo il venerdì E solo dopo aver battuto Angelo Capopalestra Grazie Se avete visto questo video Votate, commentate e iscrivetevi